Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e volevo mostrarvi uno strumento molto interessante Microsoft Translator che ho conosciuto grazie a Richard Byrne che lo ha segnalato come uno dei più interessanti servizi al BetShow di Londra Microsoft Translator ha varie funzionalità prima di tutto possiamo creare delle conversazioni delle chatroom e possiamo conversare con più persone anche in modalità da relatore cioè parla soltanto una persona, le stanno ad ascoltare e non possono intervenire oppure in modalità molti a molti, tutti possono intervenire ma qual è la particolarità di Translator? Quest'immagine lo rappresenta abbastanza efficacemente ciascuno dei partecipanti alla conversazione si esprimerà nella propria lingua e riceverà i messaggi vocali o testuali degli altri partecipanti che scrivono o parlano in altre lingue nella propria lingua si occupa Translator di operare queste traduzioni e quindi abbiamo la situazione raffigurata appunto in queste immagini in cui ognuno si esprime nella propria lingua ma ciò che dice viene tradotto automaticamente da Translator nella lingua dei suoi interlocutori e viceversa è uno strumento quindi piuttosto interessante per superare le barriere linguistiche e partecipare insomma a una sorta di antidoto alla torre di Babele il funzionamento segue i passi di tutti gli strumenti di questo tipo iniziamo la conversazione ci viene fornito un codice questo codice lo condividiamo con i nostri interlocutori che possono così entrare anche loro nella stanza e cominciare a parlare ecco abbiamo una doppia scheda iscrivete la conversazione e inizia la conversazione questa è la home page del servizio in inglese c'è anche, ecco, rompi la barriera linguistica start conversazione e dobbiamo loggarci io mi loggerò col mio account Google Plus e darò un titolo alla conversazione in questo caso uso il titolo test e selezionerò la mia lingua a questo punto non mi resta che cliccare su invio e automaticamente viene creata la stanza e mi viene fornito un codice chiudo come vedete posso digitare come in un tradizionale servizio di chat e cliccare su invio e qui comparirà il mio messaggio bene, questo messaggio verrà letto dal mio interlocutore poniamo tedesco o inglese in tedesco e in inglese ecco qua, attivo la conversazione vocalica cliccando sull'icona del pulsante premo la barra spaziatrice ciao a tutti e come vedete il messaggio viene postato vediamo quali sono i settaggi come posso configurare e personalizzare questa mia conversazione adesso non sono in modalità relatore quindi tutti possono intervenire se attivo con questa casella di controllo la modalità relatore solo io potrò parlare e gli altri potranno solo ascoltare cliccando sulla rotellina si apre un menu che mi dà altre possibilità di personalizzazione io ho attivato la casella che traduce man mano che la conversazione del mio interlocutore procede traduce la conversazione stessa senza aspettare che abbia finito di parlare posso disattivare la sintesi vocale e quindi adesso mi compariranno messaggi testuali di risposta posso disattivare il microfono o attivarlo in questo caso il microfono è disattivato ovvero si attiva soltanto quando io clicco sulla sbarra spaziatrice e sull'icona del microfono altrimenti è sempre attivo e quindi viene trascritta o sintetizzata vocalmente per il mio interlocutore ogni cosa che io dico posso anche impedire che altri partecipino alla discussione dopo che ho raggiunto il numero degli iscritti che mi interessa o le persone che mi interessano posso anche modificare la grandezza del carattere vedete può essere utile anche questa opzione e poi interessante posso salvare tutta la trascrizione della conversazione in modo da poterne disporre in un secondo momento adesso provo a simulare una conversazione ho fornito al mio interlocutore poniamo inglese il codice di conversazione questo è il suo nome la sua lingua sarà l'inglese abbiamo detto eccolo qua e in questo modo vedete il mio interlocutore si può iscrivere alla conversazione utilizzando il pannello iscriviti alla conversazione invio william deve consentire all'uso del microfono one, two, three il mio inglese è un po' penoso però insomma mi ha capito uno, due, tre adesso william può unirsi alla conversazione ecco qua vedete i due partecipanti sono io che mi chiamo test William che si chiama chiedo scusa e l'altro è William che parla in inglese adesso proveremo a vedere cosa succede quando William parlerà clicchiamo sull'icona del microfono barra spaziatrice the pen is on the table ecco qua the pen is on the table the band lasciamo stare e vedete la band è sul tavolo il mio inglese neanche nelle sue forme più semplici funziona torniamo a vedere adesso William anzi facciamo rispondere a a test chiudiamo dove vivi? vedete che il programma o meglio translator ha tradotto automaticamente dove vivi in inglese vediamo ancora qualche altra cosa e poi chiudiamo clicchiamo il microfono tiger tiger burning bright vediamo come sarà cava con William tigre ardente e brillante è andata abbastanza bene come traduzione io posso rispondere adesso usando la chat testuale what's going on is there a tiger are you in danger vedete ha tradotto in inglese mi sembra anche per quel poco che posso valutare un inglese corretto a questo punto salvo la prova a salvare la trascrizione di questa mia conversazione con William Blake vedete mi ha scaricato in formato txt la trascrizione usciamo dalla conversazione e vediamo alcune altre cose prima di tutto il testo posso come con con il traduttore di google posso usare anche il traduttore di bing microtranslator per esempio andiamo qui non so copiamo questa frase in inglese Richard Byrne la incolliamo e la traduciamo in italiano buonasera dal termine 5 dove sto aspettando un volo vedete ha funzionato abbastanza bene andiamo inoltre scaricare l'applicazione per il nostro smartphone insomma per il nostro dispositivo mobile vedete in vari formati per windows per android per ios e anche per amazon insomma i vari sistemi operativi disponibili tutti i principali per i vari smartphone e tablet bene io ho concluso mi sembra veramente interessante vi saluto e vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti